questa è una trappola per lupi usava una volta ora l'hanno coperta perché accidentalmente ci può andare a finire qualcuno dentro era una fossa ben preparata e veniva gettato qua dentro un animale vivo a che potesse essere di richiamo ai lupi il lupo cosa faceva ci si gettava dentro e ovviamente non ci sortiva più l'agnello o lì se l'era mangiata addirittura e quindi a quel punto che non poteva risalire qui c'è la spiegazione tecnica che io vi ho sonteggiato trappola per lupi eccetera 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 stop